Dopo mesi di silenzio, Cristiano Iovino ha deciso di tornare a parlare del flirt con Ilari Blasi e di togliersi un peso dal cuore. Mentre la polemica Totti Giacobelli tiene banco, ecco comparire all'improvviso Cristiano Iovino. Intercettato da una giornalista di gente durante un viaggio in treno, il personal trainer ha voluto esprimere il suo pensiero sugli ultimi pettegolezzi che coinvolgono il pupone. Ma questa chiacchierata gli ha anche dato l'opportunità di sfogarsi riguardo a Ilari Blasi, con cui ha avuto una relazione tra il 2020 e il 2021, quando la presentatrice era ancora sposata con l'ex capitano della Roma. Cristiano Iovino non ha rilasciato interviste a gente, ma le sue confessioni durante il viaggio con la giornalista sono finite sull'ultima edizione del settimanale. In una conversazione, l'allenatore personale ha commentato lo scandalo Totti Giacobelli, cercando di mantenere un basso profilo, ma ha anche espresso perplessità sul fatto che Totti abbia ammesso qualcosa. Il riferimento a Maria Luisa Giacobelli è stato diretto ma contrastante rispetto a quanto dichiarato da Iovino lo scorso gennaio, quando aveva rivelato di aver avuto una relazione segreta con Ilari, smentendo così la presentatrice. Riguardo a Ilari Blasi, Cristiano Iovino ha dichiarato di aver tolto un peso dal cuore riguardo alla sua ex fiamma, sottolineando che Ilari lo ha coinvolto. Tuttavia, la storia della ripicca sembra non convincere del tutto. Secondo la rivista, basandosi sulle parole e sul tono di Iovino, sembrerebbe che si sia innamorato della conduttrice romana e che sia rimasto ferito dalla vicenda che lo ha coinvolto tre anni fa.